Nonostante i saldi estivi siano iniziati alcuni giorni, i commercianti dell'Emilia Romagna sembrano tutt'altro che soddisfatti. Il 75% di loro ha sottolineato un calo nelle vendite registrato nelle prime due settimane dall'inizio degli sconti, rispetto allo stesso periodo ma riferito all'anno scorso. Mentre il 34% ha dichiarato una sostanziale stabilità e solo il 5,4% invece ha registrato un aumento. Questi dati che emergono dalla rilevazione condotta dalla Confesacente Emilia Romagna basato su un campione di negozi di abbigliamento e calzature. Il 41% dei negozianti interpellati ha evidenziato anche una diminuzione dello scontrino medio, mentre solo il 4% ha segnalato un aumento ed il rimanente 10% un livello in linea con quello dell'anno scorso. Il valore medio dello scontrino registrato in questo periodo si aggira intorno ai 50 euro, una situazione questa abbastanza omogenea in tutte le città della regione con lievi scostamenti. Sembra, stando ai dati emersi da questa relazione, che la crisi abbia inciso in modo importante sulla propensione all'acquisto e alla capacità di spesa degli emiliano-romagnoli, dati che, come ha commentato il direttore di Confesacente regionale Stefano Bollettinari, non fanno che confermare la difficoltà in cui versa il settore l'attenzione dei clienti ad acquistare di meno anche quando ci sono occasioni come i saldi in cui si potrebbe risparmiare. Grazie a tutti.